L'assessore alle manutenzioni Paolo Nicastro ha fatto il punto in questione sui lavori di rifacimento del mantostale cittadino ridotto ad un colabrodo anche per l'eccezionale ondata di precipitazioni che mai sicuramente si erano viste in città. Lavori che hanno preso il via da alcune settimane e tutt'ora in corso d'opera. Stiamo continuando, ha spiegato Nicastro, con la riparazione delle buche stradali utilizzando anche una nuova tecnologia. Si tratta di un macchinario usato in via sperimentale per la prima volta nella nostra città. Questo innovativo macchinario fa in pratica sciogliere l'asfalto che viene rimodellato. Dopodiché con l'aggiunta di additivi rigeneranti viene completata la riparazione della buca. Per sindaco Moscati inoltre si sa benissimo che c'è ancora tanto da fare in quanto abbiamo una rete aviare disastrata sia per i lavori fatti male sia per i continui rattoppi che non hanno mai portato ad una soluzione definitiva del problema. Adesso siamo partiti con un nuovo metodo e in questa prima fase sono previsti interventi per circa 50 criticità stradali. A breve partiranno nuovi lavori per la rete aviare per 75.000 euro e a seguire per altri 48.000 euro.